Al Santuario del Beato Sante a Monbaroccio risplendono i capolavori di arte sacra restaurati grazie alla Regione Marche che ha stanziato un finanziamento di 200.000 euro per questo luogo di fede immerso nella natura e frequentato da tante persone. Questa mattina visita dell'assessore regionale Baldelli del Sindaco Petrucci insieme ai frati che frequentano il convento fondato dai francescani nel 1223 e dedicato a Frate Sante vissuto nella seconda metà del 300 e ancora oggi venerato dalla popolazione locale. Siamo qui in un luogo dell'identità della nostra regione, un'identità plurimillianaria nel Santuario del Beato Sante durante le celebrazioni degli 800 anni della sua fondazione. La Regione ha voluto essere vicina ai frati che qui risiedono e costudiscono questo convento con un contributo di 200.000 euro con il quale si è dato avvio a una serie di restauri alcuni dei quali termineranno proprio per la giornata della Santa Pasqua come il restauro degli altari della Madonna o l'altare dedicato a San Francesco. Ma poi i restauri proseguiranno con il restauro dell'antico refettorio ma anche con il restauro della parte del chiostro dove in questo momento ci troviamo. Insomma dobbiamo costudire quella che è la nostra identità, quella che è la nostra cultura, quella che è la nostra arte e storia per conservare quello che ci hanno lasciato nei secoli chi ci ha preceduto ma anche per costudire per il futuro questa grande ricchezza, una ricchezza di spiritualità ma anche una ricchezza per l'attrattività turistica, culturale e artistica della nostra Regione. Insieme all'Amministrazione Comunale abbiamo fatto sinergia per far sì che oggi al Beato Sante vadano avanti quei lavori iniziati con l'ottocentesimo. Lavori per 220.000 euro grazie a un importante contributo della Regione Marche, atta al recupero del campanile, degli altari all'interno della chiesa, del refettorio nonché del chiostro e alla Fondazione Cassa di Risparmio che ci ha permesso e concesso di intervenire su un altro altare all'interno della chiesa per 220.000 euro che arricchiscono non solo la comunità monbaroccese ma tutti coloro che vengono a trovarci in questo meraviglioso santuario che non solo è stato oggetto dell'ottocentesimo anno, poc'anzi alla scadenza del 2023 ma che sarà parte interattiva importante per quello che è il percorso Cultura 2024 che vedrà Monbaroccio e il Beato Sante protagonisti nella settimana della cultura dal 15 al 21 luglio. Noi siamo i frati che abitiamo in questo luogo, quindi siamo i custodi perché in pratica non siamo i padroni, questo è un bene dell'Italia, del comune, di tutti quanti però ogni cosa che viene fatta per rendere più attraente, più bello questo luogo per noi è importante e quindi ringraziamo di cuore la regione, il comune, tutti loro che si sono dati da fare per abbellire prima di tutto gli altari della chiesa ma poi anche l'antico refettorio e anche il chiostro dove ora noi siamo.